21 21 22 23 23 26 27 27 28 31 31 32 31 32 32 32 32 32 33 33 34 34 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 40 42 42 43 44 43 45 45 46 47 Poi è arrivata anche l'ultima trovata, non si può far neanche una tassata. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Che sarà? Come porto il Ricci due, da domani quadrerà. Che sarà? Sarà quel che sarà? E adesso tanti pacchi dobbiamo fare. E per Natale il budget centrale, l'han detto in tutti i corsi, con tanta molta spocchia. Se no ci arriva a tutti una pannocchia, il commerciale è tutto preoccupato. Uno spot in tutta fretta, preparato. E per non esser messi tutti quanti nell'agonia, affiancano due pifferi a zampogna. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà dopo il computer? Chi lo sa? Come porto il Ricci due, da domani quadrerà. E sarà? Sarà quel che sarà? Molti colleghi sono andati via. E qualcun altro presto se ne andrà. Ma noi che rimaniamo, farà in grande questa spa. E sarà? Sarà quel che sarà? E adesso, chi vi canta, si è scocciato. Di scrivere canzoni in questo stato. Perché l'ultima volta che ho cantato sul più bello, Mi aveva nonciullato il limoncello. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà nella mia vita? Chi lo sa? Come porto il Ricci due, da domani quadrerà. Che sarà? Sarà quello che sarà?